Musica Bentornati al consueto appuntamento con la rubrica di approfondimento di Piave TV 20 minuti Veneti. Oggi parleremo di territorio e per parlare di territorio relativamente anche ai commerci e anche ad uno dei tormentoni dell'estate si può definire l'ospedale unico ho invitato in studio il sindaco di Musile di Piave Gianluca Forcolin. Bentornato sindaco. Grazie, benvenuti a tutti. Allora oggi è nato due macro argomenti per questa puntata di approfondimento di 20 minuti Veneti. Vorrei partire con l'Agri Village. L'Agri Village è una nuova formula di mercato per rivalutare i prodotti enogastronomici locali, le culture locali. Vogliamo parlare innanzitutto di che cos'è l'Agri Village per fare chiarezza ai nostri telespettatori? Innanzitutto l'Agri Village può riassumersi come un outlet alimentare, quindi una questione alimentare che tocca tutta la filiera a chilometro zero del nostro territorio e quindi una grossa opportunità, visti anche i risultati dell'outlet abbigliamento e quindi dell'outlet vicino a noi in 90, l'idea che era venuta e che era partita già da qualche mese fa insomma relativamente al comune di Meolo ha toccato l'interesse anche di Musile, che è un interesse da una parte provocatorio, da un'altra parte anche di opportunità importante, perché di fatto oggi ci vengono chieste a livello amministrativo delle risposte importanti e in tempi brevi e quindi perché non cogliere questo tipo di opportunità rispetto appunto a questo outlet alimentare sul quale le nostre aziende agricole, alimentari, allevatoriali del territorio ci chiedono appunto di poter rispondere in maniera concreta, alleviando e alleggerendo quella che è la cosiddetta filiera in modo tale da avere un risultato più soddisfacente per entrambi, per chi investe ma anche per chi propone e mette a disposizione i propri prodotti. Sindaco, quindi approfondiamo un po' di più questo tema, una sorta di grande mercato a chilometro zero? Sì, una sorta di appunto di grande mercato ma che deve essere visto anche come prodotto poi finito, quindi commercializzazione di un prodotto che arriva dal nostro territorio e che viene messo a disposizione non solo per questo territorio ma anche sfruttando quelle che sono le rilevanti opportunità che noi abbiamo non solo dell'entroterra ma anche quello della riviera e quindi della parte del litorale investita da milioni di presenze che quindi oggi vedono investiti come territorio e quindi come anche diciamo messaggio importante è quello dell'autostrada del mare futura della oggi attuale Treviso Mare, questo è il sito dove dovrebbe essere ubicato poi l'agrivillage. Quindi un sito dove verranno allestite, costruite una specie di grande centro diciamo dove gli espositori locali possono offrire i propri prodotti, dovrebbe funzionare così e dovrebbe essere d'attrazione non solo per gli abitanti del territorio locale ma probabilmente si punta e si mira a qualcosa di più, a cercare di accalappiare forse anche un turista, forse anche comunque chi viene da lontano dovrebbe essere così se funziona come l'outlet che è sempre pieno di… Infatti il posto deve essere strategico proprio per questo il sito deve essere individuato lungo una strada di alta percorrenza facile da raggiungere quindi noi abbiamo anche il casello di Meolo quindi stiamo parlando della Treviso Mare stiamo parlando di questo territorio e la mia… Il casello di Meolo che è ancora semi… Sì, che non è aperto in entrambi le direzioni però… Quanto ci vorrà. Questo è il futuro, insomma adesso ci sono da ultimare alcuni lavori, poi le vicissitudini regionali non hanno sicuramente aiutato… Purtroppo. Però diciamo che quel sito è un sito importante tant'è vero che Meolo che è partito, sta andando avanti per la sua strada, ovviamente ha colto questo tipo di opportunità anche se poi ho letto che i Meolesi non sono poi così contenti di questa iniziativa. Io reputo invece che ci sia una forte opportunità che è quella legata non solo al prodotto e quindi alle nostre aziende ma anche alla questione occupazionale. Assolutamente. Non dimentichiamo che in questo tipo di intervento si racchiudono occupazione, economia, oneri di urbanizzazione per il comune, tributi locali, IMU e quindi questioni anche che poi rivestono importanza per gli investimenti locali. Quindi tutta una serie di opportunità che non possono non essere colte. Ecco perché il mio messaggio era quello di dire all'investitore, a chi intende e crede in questo progetto guardate che se Musile, se Meolo scusate, è partito, ha lanciato questa idea ma oggi non ha idee ben chiare sui tempi, sui modi per arrivare al raggiungimento, quindi a finalizzazione di questo obiettivo sappiate che Musile di Piave ha un patto, un piano di assetto territoriale approvato, è pronto a fare un piano di interventi quindi dal punto di vista urbanistico in sei mesi è in grado di darvi il progetto approvato e il sito ben definito. Se qualcuno vuole cogliere questo tipo di opportunità Musile è ben lieta di ospitare AgriVillage. Detto questo ovviamente ognuno fa le proprie valutazioni ma è giusto anche che un sindaco possa cogliere e possa mettere a disposizione questo tipo di opportunità per la nostra collettività. Ho anch'io la fila, le code di cittadini che chiedono e portano curriculum, ho anch'io richieste da parte delle imprese di dare qualche possibilità o qualche opportunità in più, per cui questo AgriVillage racchiude un po' il senso di tutte le questioni. Portare qualche milione di euro di oneri di urbanizzazione vuol dire sistemare strade, vuol dire sistemare delle criticità che oggi ci sono. Creare posti di lavoro automaticamente è dare delle risposte alle famiglie in difficoltà e creare economia e dare quei risultati che oggi vengono tanto chiesti alla politica. Quindi io sono entrato diritto su questo tipo di opportunità. Lei è entrato a gamba tesa. Sicuramente qualcuno l'avrà presa male però io credo che oggi ci sia solo una questione di tempi. Noi diciamo che abbiamo lo strumento e i tempi sono brevi. Poi l'investitore abbia il coraggio, si faccia avanti, noi siamo qua a disposizione. Quindi lei è entrato a gamba tesa, ha fatto l'occhiolino a questo progetto e in sintesi vorrebbe portarlo nel territorio di Musile. Sì, d'altra parte noi siamo rispetto a Meolo divisi solo dalla fossetta, quindi dalla Statale 14. La variante della Statale 14 che è la Treviso Mare consente appunto di essere anche più vicini al litorale perché ovviamente spostandosi più su Musile si è più vicini agli esolo e quindi di fatto non cambia molto insomma la questione. È una questione di opportunità ma è anche e soprattutto una questione di tempi. Io non voglio portare via nulla a Meolo però bisogna avere le idee chiare. Se le cose si vogliono fare si deve avere il coraggio di dire all'investitore io te lo do il prodotto finito in sei mesi, in un anno. Dobbiamo dire come stanno le cose. Io il PAT lo ho approvato, Meolo mi pare sia ancora un po' indietro. Per cui questo è un messaggio che va sicuramente a chi deve investire. A difesa di Meolo, visto che insomma io da conduttrice devo fare anche un po' la superpartis, posso dire che appena reduce dalle nuove elezioni c'era il sindaco precedente Michele Basso invece che aveva fortemente portato avanti questo progetto dell'Agri Village. Giustamente come dice lei un amministratore deve dare delle risposte. Io non ho mai interferito sulle questioni di Michele Basso perché reputavo e reputo che sia una buona idea tant'è vero che oggi sono pronto anche ad accoglierla. Chiedo all'amministrazione meolese di non far o di non perdere tempo in questo senso perché ne va di mezzo ovviamente una questione di aziende, una questione di opportunità lavorativa, una questione di economia che non riveste solo Meolo come non rivesterebbe solo Musile. perché stiamo parlando di questioni veramente importanti. Non perdiamo tempo, non perdiamo questa grande opportunità per il nostro territorio. Assolutamente. E dovesse essere, quali passi farà adesso il sindaco di Musile per portare a casa questo progetto importante? Beh io dovrei avere... Perché lei si sta dichiaratamente... Ma certo, io mi dichiaro già disponibile a una richiesta formale di intervento, quindi su una zona ubicata, ho sentito appunto che l'interesse è proprio lungo questa tratta e quindi una proposta formale da presentare all'amministrazione comunale che vaglierebbe e metterebbe nelle condizioni con un accordo pubblico privato e previsto dal PAT articolo 6 delle nostre norme, appunto la perequazione e il fatto che un privato possa intervenire, chiedere di mettere a disposizione determinate aree, determinate cubature, a fronte di queste come oneri di urbanizzazione fa dei lavori di miglioria e quindi dei lavori di miglioramento per l'ente comunale che ci metterebbe anche in termini di tempo un po' di più, quindi ti può asfaltare le strade, ti può mettere a posto determinate criticità che oggi non siamo in grado per i limiti di bilancio di fare e quindi si chiama proprio accordo pubblico privato, io ti do questa opportunità, tu mi dai in cambio questo tipo di lavoro o di servizi e mettiamo assieme le nostre forze per dare una risposta sul territorio. Credo che chi voglia, gli imprenditori che ci ascoltano e sentono, hanno già ben capito insomma che c'è una grossa opportunità e soprattutto ci sono tempi celeri per metterci in moto. Sindaco, questa proposta qua, collaborazione pubblico privato, ricorda un po' la finanza di progetto che insomma non è un progetto riuscito molto bene. Esatto, però diciamolo non è un project financing, nel senso che il comune non dà la possibilità di fare un project ma dice all'investitore tu costruisci, fai, poi affitterai, darei locazione farai le tue cose con la filiera alimentare del territorio perché ognuno prenderà a disposizione degli spazi. Penso al periodo degli asparagi che l'azienda di Cavallino può dire invece di fare una filiera che si allunga e io prendo l'azienda agricola, prendo pochissimo da questo tipo di prodotto andando a locare un 100 metri quadri per dire all'interno di AgriVillage e di vendere il mio prodotto posso dare a chilometro zero e quindi con un risultato anche migliore per l'azienda perché non devo passare attraverso il commercio all'ingrosso e quindi poi il dettaglio e quindi tutti quei passaggi che fanno sì che il mio prodotto venga venduto a poco e a poco guadagno per l'azienda. Invece se vado a mettere direttamente la faccia e a proporre il mio prodotto nella filiera corta a chilometro zero, chiaro che il beneficio è anche per l'azienda. Quindi è un beneficio totale, ci sono veramente centinaia di opportunità e di prodotti che possono essere commercializzati, credo sia un intervento importante. Ultima questione per le associazioni di categoria che hanno già sottoscritto protocolli in intesa per AgriVillage e per andare avanti su questa linea, non si scandalizzino, non ci siano alcuna questione che possa mettere in discussione il loro lavoro e il loro impegno perché si tratta solo di cogliere, anzi di cogliere l'opportunità di ridurre quello che è l'arco temporale per l'intervento. Per cui se il messaggio è importante su Meolo e non trova soluzioni veloci diventerà altrettanto importante su Musile e noi abbiamo le porte aperte per queste associazioni perché è chiaro che la questione va gestita a 360 gradi con l'impegno e il supporto da parte di tutti. Quindi operativo al massimo, pronto a lavorare, promette anche tempi brevi e più volte l'ho sentito dire che è una grande opportunità per il territorio, una grande opportunità di lavoro, insomma tutte cose buone e belle che però in Italia, nel nostro piccolo Musile, Sanonà e comuni trovano davvero difficoltà poi nell'essere attuate, nel portarle a termine e dall'Agri Village passerei a questo punto ad un altro grande, non lo so, progetto che viene ventilato, infatti è stato ospite proprio in una puntata di approfondimento di 20 minuti veneti anche il direttore generale dell'Asla 10, il dottor Carlo Bramezza per parlare proprio di questo ospedale unico. se ne parla, fa discutere, fa parlare di sé, c'è una commissione dei sindaci del Veneto orientale che ha dato un parere positivo ancora prima dell'estate, il sindaco di Caorle Luciano Striuli, anche lui ospite nei nostri studi, ha detto che voleva addirittura dare un'accelerata e per settembre terminare i lavori della commissione che trovassero il sito per e invece in realtà, cosa buona, perché il sindaco e il direttore generale ha spiegato nei 20 minuti a sua disposizione quanto questo ospedale potrà essere un'eccellenza per la sanità, quanto potrà essere utile per i cittadini, eppure cosa buona ma non si porta a casa, perché? Ma io sono un po' deluso da questo iter che doveva andare in assoluta discesa e invece poi si sta arenando per diverse questioni, soprattutto politiche, perché dobbiamo comunque ricordare che se una conferenza dei sindaci ha l'unanimità, ma è successo... E il voto è di parecchi mesi fa, sindaco? 20 sindaci che votano in modo univoco per dire sì all'ospedale unico. Poi c'è stato un intoppo. Poi c'è stato il secondo passaggio, dove si fa questo ospedale unico? E' chiaro che poi la politica, il campanilismo tenderebbe a dire io lo voglio, ma lo voglio a casa mia, io non lo voglio troppo lontano e quindi questioni politiche che ci sono... Questo adesso becco lei come amministratore, però non è bello, davanti ai nostri telespettatori che sono i vostri elettori, non ci fate una gran bella figura. No, ma infatti io, il dottor Bramezza, spieghiamo le cose, una volta detto sì all'ospedale unico, il dottor Bramezza ha mandato ai 20 sindaci 20 schede per dire chi si candida ad avere l'ospedale unico nel proprio territorio, perché dobbiamo dire questa cosa qua. Musile non ha presentato la candidatura, perché mi sembrerebbe innaturale che Musile presenti una candidatura su una posizione che non ha quel collegamento necessario, quella struttura e anche quel territorio che dal punto di vista idraulico ha delle difficoltà, quindi io assolutamente non ho presentato l'istanza a qualcuno, potrebbe dirmi di Musile perché non hai presentato anche tu, perché è una questione di buonsenso. Chi non può e non ha queste caratteristiche faccia un passo indietro. Sono arrivati sei siti, sono arrivati sei domande. E vogliamo ricordare Sandonà? Sandonà, prima di tutti Portogruaro, poi c'era San Stino, Torre di Mosto, Ceggia, quelli baricendrici si sono fatti vivi tutti ovviamente e quindi questi avevano anche una sua logicità, perché stiamo parlando di Sandonà, Portogruaro e i comuni che ci stanno in mezzo. Abbiamo detto proprio per evitare speculazioni politiche, diamo mandato a una commissione tecnica regionale che verifichi lo Stato dal punto di vista idrogeologico, perché è importantissimo che non facciamo un ospedale che ci va sott'acqua, per esempio. Assolutamente, poi sismico anche, perché comunque anche la nostra zona è una zona sismica. Viabilistico, il collegamento per esempio con Portogruaro, con Mestre, con l'autostrada, eccetera. Dal punto di vista anche della densità urbana, perché ovviamente dobbiamo tener conto che poi l'utenza sono i cittadini stessi, per cui la densità urbana rispetto a un territorio che è così vasto. Hanno fornito 212 pagine di relazione la commissione tecnica regionale, dicendo che il sito migliore è Sandonà di Piave. Si è scatenato il putiferio da parte del portoguarese, perché ovviamente Sandonà di Piave e non Portogruaro e non altri. Quindi è chiaro che si apre una marea, la politica poi è brava a far malanni e far danni su questo. Detto da lei, ma io lo dico perché di fronte a questo ognuno è capace di vedere sul rovescio della medaglia tutte le giustificazioni possibili e immaginabili. La politica è anche questo, non vergogniamoci di dirlo. Però se abbiamo detto di sì tutti, se la commissione ha detto Sandonà di Piave, noi possiamo presentare delle memorie che tengano conto delle compensazioni territoriali, perché giustamente quello di Portogruaro può dire sì, ma vengono tutti su Sandonatese, io di qua rimango sguarnito di un certo senso di questa sanità che si sposta su Sandonà, devo avere delle opere di compensazione. Ma il direttore generale ha spiegato che comunque... Che abbiamo messo a disposizione, però la battaglia è stata proprio di principio sull'ospedale. Quindi si sono messi tutti d'accordo di dire non molliamo sul portoguarese, non molliamo la questione. Quello che mi rammarica un po' è che di fronte a scelte così, dove Sandonà aveva il pallino in mano della situazione, il buon Andrea Cereser non ha convocato e fatto quel lavoro importante che ha fatto Bertoncello nel portoguarese. Non ci ha detto dobbiamo presentarci compatti per andare a spiegare quali sono le nostre ragioni. E di fatto quello che io lamento nei confronti del amico Cereser è quello di dire Bertoncello un po' ci ha mangiato i risi in testa, nel senso che è partito sconfitto, non aveva nessuna chance di avere l'ospedale in casa. E di fatto non solo non ci troviamo nei prossimi giorni, ma abbiamo rinviato a fine mese la conferenza dei sindaci, vuol dire che se dovevamo approvarla a luglio, poi dovevamo approvarla a agosto, poi a settembre e adesso ci diamo... Sta sgrittando sempre di più, insomma i tempi, poi ci sono dei tempi... Ma certo, no ma non ci sono dei tempi, ci sarà qualcuno che dirà adesso i numeri non ci sono, si va in campagna elettorale per le regionali, quindi ognuno cercherà di speculare pro o contro il proprio candidato che deve sostenere le regionali e di fatto si arriverà a portare dopo le elezioni regionali del 2015 la questione, il che vuol dire insabbiare tutto. È bruttissimo, cioè quello che lei ha detto, io lo leggo veramente brutto, che l'ospedale venga utilizzato come argomento di campagna elettorale, perché stiamo parlando comunque della salute, dei cittadini... Ma sì, ma poi sappiamo come finirà, finirà nel dire ma la regione doveva mettere i soldi indipendentemente da... La regione una volta per tutte ha detto ai sindaci decidete dove volete l'ospedale unico, noi mettiamo i soldi, più chiari di così. Ovviamente se i sindaci non sono in grado di mettersi d'accordo perché poi vengono fuori questo tipo di battaglie, credo che ne abbiamo tutti da rimettere, nel senso che comunque è brutto, abbiamo dato una pessima dimostrazione di una politica che doveva essere solo in discesa e che aveva già dato i suoi risultati con la Commissione Tecnica Regionale. Io chiederei a Cereser e al Presidente Striuli di fare una conferenza di sindaci dove si alza la manina e ognuno dice la sua posizione perché rimanga agli atti. Chi ha voluto frenare la sanità del Veneto orientale in questi anni perché insabbiando ricordiamo che sarà la pietra tombale per il nuovo ospedale unico e per ricordarci e per far ricordare ai nostri cittadini che l'evoluzione della sanità e questo fanalino di coda che ormai ci portiamo avanti come Veneto orientale resterà tale per colpa di Tizio Caio Sempronio che mi piacerebbe vedere alzare la manina perché io sono pronto a dire che io sono per l'ospedale unico anche se fosse stato scelto Ceggia, Sanstino o Torre di Mosto. Lei non si schiara da parte. Io non è che lo voglio vicino a casa. A parte che c'è stata comunque una commissione super partes di tecnici che hanno scelto. I cittadini, dobbiamo anche dirlo, ci hanno già abituato che quando hanno una patologia importante non chiedono la politica, prendono la macchinina e vanno nel centro specializzato. Quindi non dobbiamo imparare o far imparare qualcosa ai cittadini sono i cittadini che sono più avanti della politica. Noi ci perdiamo su questioni che diventano veramente banali e di pessimo gusto. Quindi su questo richiamo Andrea Ceresar a difendere la città, a difendere questo territorio che ha lasciato in mano oggi il portoguarese. Perfetto. Bene Sindaco, noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di 20 minuti veneti di questa settimana. La ringrazio per essere stato qui con noi. Con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ricordo l'appuntamento con 20 minuti veneti alla prossima settimana, sempre su questa emittente. Grazie e buona continuazione di programma. Grazie.